Di nuovo insieme, come preannunciato è arrivato il momento di collegarci con un nuovo ospite. Siamo particolarmente felici di avere con noi Don Nicolò Santa Marina, parroco della Badia di San Michele Arronta di Mugello, artista autodidatta, molto prolifico, ha pubblicato anche dei libri e siamo felici di averlo qui, di averlo qui con noi Don Nicolò, anche perché ha una storia umana, artistica e di vocazione molto particolare. Intanto lo saluto, ciao Don Nicolò, ben trovato. Buona giornata. Buona giornata a te, siamo davvero felici di averti con noi, dicevo perché la tua è una storia molto bella, tutta da ascoltare, quindi ti chiederei subito di raccontarci come la fede e l'arte si sono mescolate nel tuo percorso di vita. In maniera naturale, io sono di Taranto, sono partito nell'84 e sono venuto qui a Firenze per studiare Architettura, mi sono laureato in Architettura. Quindi ho messo sempre al centro la spontaneità e la bellezza dell'arte e in maniera naturale l'arte mi ha portato a Dio, perché poi ho avuto la possibilità di conoscere Don Setti, Don Giancarlo Setti, che voi mutualmente conoscete, il prete fiorentino, che veniva spesso a San Giovanni Rotondo, e poi ho conosciuto il Cardinale Piovanelli, che è proprio del paesino in cui ora mi trovo, e lui mi ha poi proposto di entrare in seminario. Quindi io in maniera sintetica posso dire in maniera naturale, quando uno si lascia andare nel senso positivo del termine e dà, come dire, libertà al proprio cuore, no? È molto bello quello che lei ha detto. Mi permetto subito di intervenire, Tony. Assolutamente sì. Anche perché il nostro ospite ci aiuta a cambiare argomento rispetto alle fredde cifre e comunque alle spine della politica, perché deve sapere, carissimo, che noi durante i nostri programmi, oltre ad avere appunto i graditi ospiti, diamo via via le notizie più importanti e naturalmente oggi si parla di Europa e del fatto che gli italiani non sono andati alle urne per un po' più della metà degli aventi diritto e questo ci rincresce. Secondo lei c'è possibilità, visto che l'Europa in fondo è la patria anche dell'arte nella sua storia, di riagganciare un po' di voglia di politica proprio adoperando quello che lei stava dicendo o è un'utopia? Il discorso politico, la politica nell'accezione più alta, più bella, è quella della donazione, di fare comunione e comunità. Io penso che in Europa si deve incentivare il discorso della comunione, non avere un unico sentito dire, nel senso che quello che uno ha proprio nelle proprie radici, ha proprio nel proprio cuore. Soprattutto per me, che io sono sacerdote, è quello che l'Europa deve riscoprire il Signore, riscoprire Gesù. Io per quanto riguarda l'Europa ho avuto un approccio a Rennes in Francia, peraltro per tre anni ho fatto le visite guidate nella cattedrale di Rennes e quindi mi sono sentito davvero parte integrante perché amo l'architettura e quindi ho trasmesso il mio modo di essere, la mia sensibilità in un contesto estraneo a quello italiano, ma molto comune perché il senso della fede, il senso dell'amore verso il Signore è davvero qualcosa di universale. Io direi che l'Europa deve riscoprire la sua origine parafrasando diverse persone che l'hanno detto prima di me è riscoprire le origini cristiane. Grazie Don Nicolò. È importante davvero quello che abbiamo sentito ora. È certo, e ovviamente lo condividiamo. Queste origini, questa flato, ecco questa fede, tu la riversi abbondantemente nelle tue opere, opere che la regia ci stava proponendo mentre chiacchieravamo, ma io le vorrei vedere con te e lasciarti spazio per spiegarcele anche se sinteticamente. Quindi soffermiamoci su una tavola perché ovviamente non avremo il tempo per poterci soffermarci su tutte, però lascio alla regia il piacere di scegliere alcune tavole così che Don Nicolò ci possa dare una sua spiegazione. Prima di tutto il discorso del realismo, il linguaggio pittorico, che deve essere semplice perché ciò che deve emergere è il messaggio, soprattutto in un contesto contemporaneo in cui l'arte forse sta diventando un po' troppo fine a se stessa e pochi contenuti. Io ho scoperto questa cosa proprio a livello proprio di Vangelo, delle Sacre Scritture, che sono scritte davvero in greco in maniera molto semplice, quindi il linguaggio deve essere semplice perché deve essere immediato. Poi per quanto riguarda questi lavori, io sono stato ispirato dalla processione, quella di Altamura. Ho visto questa processione, me ne sono innamorato, poi anche la mia cultura, quella tarantina della Settimana Santa che molto veramente conoscete in Puglia, ovviamente. E' tutto, noi siamo una sommatoria di tutto quello che abbiamo visto e ovviamente non c'è niente di nuovo. noi lo riproponiamo mettendo e associando e sommando la nostra sensibilità a delle cose che già abbiamo visto, tutto sommato. E l'unione delle sensibilità e la sommatoria di tutte le sensibilità creano quello che poi è quello che un lavoro, un'opera può dire, può spiegare, può esprimere. Per esempio quella che si... Prego, prego. E quindi un linguaggio semplice perché il contenuto è complesso e soprattutto deve essere fruibile da tutti. L'arte non deve essere fine a se stessa soltanto a livello formale, ma quella sacra in particolare, quella diretta che io faccio, praticamente si rivolge a persone insomma di tutti i tipi. perché tutti possono captare attraverso le emozioni un proprio aspetto della propria vita. Io per esempio, c'è un quadro dove c'è Gesù che è caduto per terra e mostra i piedi sporchi. Se lo fate scorrere... Ecco, ecco questo qui. Ecco, questo qui mi rimanda a quello che io ero... quello che ho vissuto a Taranto, per esempio, giocando nel mio balcone di casa e mi sporcavo i piedi di minerale, di Little Sider allora, quando se ne parlava poco, ma ce n'era tanto, e allora mi sono ricordato appunto i miei piedi sporchi e questi piedi miei sporchi li ho messi a Gesù perché lui ricalca tutte le difficoltà e tutte le sofferenze dell'umanità o forse anche la mia. Bella, molto bella questa lettura. Non so se Maria Pia vuole chiedere qualcos'altro. Io anticipo semplicemente che, come dicevo in apertura, Don Nicolò ha scritto anche dei libri per cui poi gli farò una domanda anche su questo. No, quando ho sentito da lui la parola sensibilità subito mi è scattata la classica domanda per noi giornalisti che spessissimo incrociamo notizie in cui appunto ci sono situazioni anche all'interno di luoghi e delle parrocchie in cui i fedeli non comprendono il significato di alcuni, ad esempio, crocifissi particolari che sembrano quasi offendere la sensibilità. Adesso io accantono i singoli casi anche recenti che sono avvenuti per chiederle secondo lei effettivamente bisogna una volta che ci si fida di un artista poi in ogni caso lasciarlo fare o bisogna ritornare ai tempi d'oro quando i papi andavano a correggere quasi il tipo di arte il tipo di scultura di pittura che l'artista faceva. Io credo io ho avuto la fortuna la grazia di essere cioè sono sacerdote e sono molto contento e quindi di avere l'opportunità di approcciarmi alle Sacre Scritture quindi ci deve essere un approccio alle Sacre Scritture proprio per avere equilibrato proprio il messaggio che bisogna dare. Noi dobbiamo essere servi parafrasando Maria la Madonna servi del messaggio del messaggio di Gesù. Anche la mia pittura alla fin fine deve quasi annullarsi per poi incarnarsi proprio nel messaggio nel messaggio che è eterno il messaggio che è quello di Gesù. Io sono rimasto contentissimo della mostra che c'è stata nel 2019 a Firenze presentata da Antonio Paolucci dove è emerso davvero il messaggio è quello che poi è la cosa fondamentale e poi un aspetto che mi piace tantissimo è quello di lavorare insieme ad altri in un senso comunitario tutti insieme in base alle proprie competenze in base ai propri talenti mettere in evidenza l'unica persona che poi ha cambiato la mia vita Gesù di Nazareth Grazie grazie Don Nicolò in conclusione due battute i prossimi appuntamenti appunto legati alle esposizioni delle tue opere e quel richiamo anche al mondo dei libri ecco nei tuoi libri trasferisci anche questa sensibilità parli di arte fede o di altro allora nei libri negli altri libri ho parlato anche di altri aspetti dell'arte ma quello che sottolineo e quello che mi interessa di più al momento è proprio di essere un canale per quanto riguarda la catechesi attraverso l'arte e soprattutto diffondere in questo mondo che è difficile ma come è sempre stato diffondere il messaggio di Gesù quindi il mio essere sacerdote il mio essere pittore il mio essere architetto cioè deve convergere il tutto verso il messaggio di Gesù prossimi appuntamenti con le tue opere allora non ce ne sono non ci sono ancora programmi è ancora in evoluzione mi piacerebbe parlare anche con il mio vescovo per per quanto riguarda un discorso di catechesi ed arte attraverso le mie pitture nella diocesi di Firenze bello assolutamente un'ottima idea bene mettermi a servizio e fare mi piacerebbe un sogno un progetto di fare qualcosa di itinerante molto bene molto bene sarebbe bello anche ritornare in Puglia e beh è casa tua è casa tua e noi ti aspettiamo a braccia aperte dunque restiamo in contatto Don Nicolò non perdiamoci di vista in maniera tale da poterci ritrovare appena possibile e naturalmente grazie grazie per averci dato la possibilità di conoscere un grande artista grazie grazie a voi tutti e grazie a tutti i telespettatori di Padre Pio TV e grazie a Padre Pio e alla mia terra grazie a te Don Nicolò noi ti auguriamo buon lavoro e buon proseguimento di giornata con la speranza quindi di ritrovarti presto adesso diamo la linea alla regia ma ci ritroviamo tra pochissimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti